L'impegno italiano per la prevenzione del diabete e la promozione di stili di vita più sani è stato premiato venerdì 28 novembre presso la sede dell'Ambasciata di Danimarca a Roma con le medaglie August e Marie Krog 2014. Quest'anno a ricevere il premio il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e il Presidente del CONI Giovanni Malagò. Un riconoscimento prestigioso conferito ogni anno a personalità del mondo scientifico, economico e sociale italiano da una giuria nominata dall'Italian Barometer Diabetes Observatory Foundation e preseduta dal Professor Renato Lauro. Mi ringrazio veramente a tutti e devo dire che quando ho saputo che venivo premiata proprio nel nome di August e Marie Krog sono rimasta molto contenta. Innanzitutto perché stiamo parlando di un premio che si rifà a due dei più grandi scienziati del mondo e proprio per le cose che avete detto, cioè per questa storia di amore e di passione straordinaria ma occuparsi di salute è una storia di amore e di passione straordinaria, può essere solo questo. 3,5 milioni è il numero delle persone affette da diabete in Italia, una vera e propria emergenza sanitaria che ha costi complessivi pari a 10 miliardi di euro. Ma cosa si può fare? Cosa stanno facendo le istituzioni per prevenire e curare questa malattia? Il Ministero sta facendo moltissimo, in questo anno abbiamo inserito nuove linee guida per il diabete, abbiamo fatto una serie di operazioni che rendono più facile l'utilizzo dei farmaci, così come cercato di omogenizzare gli interventi, ora stiamo anche facendo un registro nazionale per i diabetici. In tutta l'azione di quest'anno sulla prevenzione e la lotta alle malattie croniche non trasmissibili abbiamo posto gli stili di vita, la prevenzione, la diagnosi precoce e soprattutto la capacità veramente di essere consapevoli dei comportamenti al centro delle nostre politiche. Però qui nel nostro paese ora c'è una maggiore consapevolezza da parte degli operatori sanitari e anche delle persone già malate ma non c'è ancora veramente culturalmente una consapevolezza da parte della popolazione che il diabete è in aumento vertiginoso, così come le malattie croniche non trasmissibili perché noi invecchiamo, abbiamo casi di obesità tra i minori, tra i bambini altissimi e questo dipende essenzialmente da non mangiare bene e non fare sport. Quindi noi abbiamo bisogno di rieducare a un corretto stile di vita intere generazioni. Sarà un lavoro lungo ma bisogna farlo. Noi oggi non possiamo più limitarci a svolgere il nostro ruolo da semplici persone che devono far vincere delle medaglie alle Olimpiadi o ai campionati del mondo europei ma dobbiamo assolutamente sensibilizzare l'intera opinione pubblica, tutta la popolazione italiana. Io avverto molto forte questo tipo di impegno, c'è proprio un problema di coscienza perché poi si lascia un paese secondo me molto migliore o peggiore a seconda delle azioni che oggi noi facciamo, in particolare sulle nuove generazioni. Siamo un paese che abbiamo delle eccellenze, però con grande franchezza abbiamo delle grandi criticità. Bisogna spiegare bene le cose, raccontarle, educare, c'è un tema di cultura sportiva dove siamo arretrati. Mi sto e ci stiamo impegnando il più possibile.